Situazione sempre più critica, la Celta S.p.A., azienda che lavora nell'ambito della cyber security e degli impianti ad alta tecnologia digitale, con sede a Cadeo e stabilimenti a Tortoreto, Roma e Avellino, con quasi 300 dipendenti in totale. I lavoratori della sede di Tortoreto hanno organizzato un presidio per lunedì 17 dicembre, in concomitanza dell'incontro convocato presso la sede della provincia di Teramo, per fare il punto della situazione, anche se dalla sede centrale non giungono buone notizie, visto che l'azienda ha presentato al Tribunale di Milano una richiesta di concordato preventivo e la sezione fallimentare ha dato tempo alla Celta fino al primo di aprile per produrre una proposta definitiva con il piano concordatario. La situazione della Celta ci si è presentata come un fulmine a ciel sereno sotto Natale. La Celta è iniziata tutta la procedura della dichiarazione di esuberi a giugno di quest'anno. Hanno preparato una procedura di concordato, congelando di fatto a quei poverini che hanno accettato di andare via con l'incentivo, di fatto vengono congelate tutte le somme a loro dovute, si rischia la tredicesima mensilità che venga congelata anch'essa, si rischia il pagamento diretto dell'Inps e quindi rifare e rimodulare tutto l'accordo della cassa di integrazione che abbiamo stipulato a giugno e questa cosa noi la riteniamo veramente aberrante perché l'azienda ha giocato veramente con la pelle dei lavoratori. L'azienda è indebitata per un totale di 48 milioni di euro. Queste somme ci sono arrivate per colpa di dirigenti incapaci e per manager che hanno messo in ginocchio questa azienda e come sembra stanno pagando i lavoratori. Noi riteniamo opportuno che al presidio che faremo il 17 intervengano anche le istituzioni politiche. Non possiamo più permetterci di perdere un solo posto di lavoro e tantomeno le aziende sul territorio di Teramo. Accolgo l'occasione per fare l'appello al sindaco di Tortoreto affinché anch'esso si muova insieme a noi perché un'azienda come la Celta porta economia sul territorio e soprattutto porta un valore aggiunto alla provincia di Teramo. Con il no out che hanno i lavoratori dipendenti della Celta di Tortoreto è impensabile che questo sito venga a chiudere.